amore che si fa i selfie, amore ti fai selfie? entro nel tuo selfie e ti vedo nel mio vlog buonasera a tutti amici mamma mia sempre oggi siamo ritornati nella splendida roma l'altra volta? in uno dei punti principali della sua cristianità e della cristianità in tutto il mondo piazza san pietro dove qui è riniziata la cultura cristiana italiana e del riferimento per tutto il mondo un divulgatore nato è sbagliato della grandezza culturale ma anche dell'umiltà dei cristiani dei primi secoli del nuovo millennio e raga qua è proprio un divulgatore nato è sbagliato mestiere sto facendo delle prove se posso andare bene per Maria di Filippi o chi era quell'altra che fa di Gucci? la Marcuzzi che fa queste isole dei sfamosi amore ci sono pochi visitatori al canale però non offendiamo nessuno no 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 continuo il nostro tour dove andiamo? dove voglio andare? per visitare la cupola il cupolone Isa vuole salire fin su la cupola e vedere tutta roma sui piedi assolutamente sì in pieno stile imperiale ok entriamo sfaticato con l'ascensore stai mandando un messaggino a mami? no terrorizzato? i napoletani non pensano solo alla madre are you ready? non lo vedo convinto sì 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 era un sì 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 era un sì sì però c'è questo fatto che ha scensore la prossima volta faccio senza scensore ma Valencia c'è io sono un toro ecco cosa ciò significa no Valencia è un bilancio ah sto condividendo le cose con i miei follower ah è già anche lui è uno con i follower un signore con i follower ha davanti d'agrici a tutti dammata ha essendo il nascimento e risotto basta sa sessore a tutti s'entramo è quello che è un bilancio non risposta è un bilancio è un bilancio Grazie a tutti 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 Che bello Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti